3, 2, 1, in onda! Il Natale, a quanto pare, quest'anno è destinato a lasciare il segno. Pare che... e adesso che succede? Ecco, mi scelgo! Nel suo luogo dei fatti è una notizia in esclusiva per voi. A quanto pare anche le pranze! Il 22 e il 25 novembre, in tutti i negozi Tor Center, il secondo pezzo lo pagherete a metà prezzo. Non ci posso credere! Scusami, devo scappare e devo subito andarlo a dire alla mamma! Tori Center!